Bentornati su MyFootballGersy. Oggi vediamo un antivento per l'Arsenal, per la stagione 22-23, bellissimo che vi consiglio assolutamente. Grazie a tutti. La diventa molto bello, bianco con questa rifinitura blu, molto elegante. Nella mia classifica questo prende 5 stelle, l'ho portato a casa e mio figlio l'ha subito voluto per sé. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso, non ho altro da aggiungere perché credo che parli da solo. Vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime offerte che il sito prepara per voi. Ora prima di lasciarvi alla parte finale, mi raccomando lasciateci un grosso like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media. Grazie a tutti!